Tutte queste tappe io, per quanto ne ritengo fortunato, le ho attraversate come qualcuno di voi. Adesso sto ovviamente ricominciando da capo. Musica Musica Oggi mi sto riportando dei dati, quindi in questo momento sto facendo lo storico. Non è quello che può dire sì, io ho sperimentato questo. Musica